Questa festa Celtic Punk, musica irlandese, musica scozzese, musica celtica in generale ci permette, come dire, di entrare dentro le vene e il cuore di questa seconda parte e anche per raccontare un progetto che ci piace molto, tornare a raccontare perché ci ha scaldato il cuore già quest'estate, a serre d'estate. Noi andiamo a Rivalta di Torino, intanto do il benvenuto, il bentornata su RBA ad Elisa Arezzo in collegamento con noi. Ciao Elisa, buongiorno, bentornata. Grazie. Grazie a te per aver accettato nuovamente l'invito, il nostro invito per raccontare un progetto che ci piace molto. Perché ho detto che ne abbiamo già parlato? Perché se ci seguite con una certa frequenza sapete che sono un paio d'anni che seguiamo, una rassegna che ci piace molto e che proviamo a raccontare anche con la nostra sensibilità che fa il paio con la sensibilità del filo d'erba e di serre d'estate. Stiamo parlando di serre d'estate. Quest'anno il tema era il tema delle questioni di genere, insomma quegli asterisk sospesi, insomma, che sono declinazioni umane al futuro più che, insomma, problematizzazioni legate semplicemente al genere di partenza degli esseri umani. Insomma, chi vuole recuperare i contenuti di quest'estate e di serre d'estate può andare sul nostro canale YouTube RBA. Però in quell'occasione noi con, a proposito di genere, la presidente o il presidente del filo d'erba, tu adesso mi correggerai subito, la presidente, ecco, perché insomma abbiamo speso tutto un sacco di tempo a ragionare su questo, la presidente del filo d'erba ci ha raccontato di un progetto che riguarda la casa del filo d'erba all'interno del vivaio a Rivalta di Torino. Perché una casa comincia, la casa si fa dal tetto e comincia dal tetto su questo, non ci piove, dice la campagna del filo d'erba, perché insomma è necessario raccogliere fondi, c'è una raccolta in corso per risistemare il tetto che ha problemi seri. Intanto, bentornata e come sta andando questa raccolta di cui abbiamo cominciato a parlare a giugno, a Rivalta di Torino? Innanzitutto grazie, grazie perché per noi l'amicizia con RBA in questi anni è stata, ed è molto preziosa, quindi grazie per averci invitato anche oggi a raccontare questo pezzettino nel nostro percorso che facciamo. Una casa comincia al tetto, su questo non ci piove, almeno ci piacerebbe che non ci piovesse, perché la nostra è una comunità che da oltre 40 anni agisce e vive, la comunità di Rivalta di Torino è una comunità di accoglienza che si occupa appunto di dare un luogo di permanenza dignitoso a delle persone che vivono un periodo di fragilità, ecco questo lo racconto anche per chi non ci conosce, per chi non ha seguito con noi Serre d'Estate e altri momenti, è una realtà però che si appoggia grazie alle Suore del Santo Natale alla loro struttura che ci è data, ha incomodato d'uso ormai da appunto da più di 40 anni, però è una struttura molto vecchia che ovviamente ha bisogno di tanta manutenzione e da diversi anni abbiamo questa sfida in corso del dover riparare il tetto che dà una casa dignitosa a tanti tanti ospiti. Siamo partiti, siamo partiti molto bene con questa campagna di raccolta fondi, siamo a 30 mila euro raccolti su 49 mila che sarebbe un po' il nostro desiderio e la nostra necessità e abbiamo appunto avuto una grandissima risposta molto calorosa sia da persone che già ci frequentano che da tanti che hanno voluto sostenerci con piccole o grandi donazioni, abbiamo una campagna di raccolta fondi attiva sulla piattaforma Produzioni dal Basso e sulla nostra pagina www.filoderbo.it si trovano tutte le informazioni per sostenerci, abbiamo tante proposte, tantissime anche di rewards quindi di ringraziamenti a chi fa un certo tipo di donazione con ceste di frutta e verdura del nostro orto o con piccoli gadget, ringraziamenti che ci piace che arrivino a chi ci sostiene abbiamo anche tante proposte per le aziende, questo ci sembra importante in prossimità del Natale abbiamo tante possibilità di un cambio di una donazione o prima di una giornata di team building o una pizzata per i dipendenti o dei corsi di giardinaggio noi siamo una realtà molto variegata perché oltre a fare accoglienza abbiamo appunto una libreria un vivaio che fanno parte dell'associazione della comunità e questo ci permette di unire tante anime culturali, lavorative, di cura proprio anche dell'ambiente e degli spazi quindi le proposte sono molte, vi invito se vi va di guardare sul nostro sito e di provare a vedere se potete in qualche modo sostenerci e accompagnarci in questa sfida lo dicevamo anche quest'estate a serre d'estate, non è che noi siamo impazziti da un giorno all'altro e ci mettiamo a sostenere un progetto che vuole semplicemente rifare il tetto di una casa perché per quello ci sono anche strumenti statali e via dicendo, ci sono i fondi privati noi parliamo, sosteniamo questo progetto e lo vogliamo raccontare anche stamattina perché in realtà c'è una storia che viene da lontano dentro l'attività del filo d'erba e che ancora oggi è concreta perché qui stiamo parlando di accoglienza residenziale anche per le persone, un luogo di sosta, le persone che fanno fatica sembrano tutti luoghi comuni ma in realtà voi incarnate da decenni insomma l'accoglienza concreta diciamo, non stiamo parlando di fuffa a beneficio di chi ci segue dall'altra parte del mondo diciamo e che magari non conosce il filo d'erba ci racconti anche cosa c'è alla base dell'attività quotidiana di accoglienza del filo d'erba a Rivalta di Torino Sì, noi non siamo una comunità terapeutica non siamo riconosciuti come un ente specifico quindi non possiamo così giocare e gioire anche di rette statali o di altri contributi perché si tratta proprio di una realtà che si struttura sulla relazione umana e su tutte le persone che vivono quel luogo sono tutti volontari non abbiamo dei dipendenti, non abbiamo degli educatori che seguono le persone accolte infatti le persone che sono ospiti nella nostra realtà hanno comunque un grado di autonomia che li permette ovviamente di vivere in autonomia e si tratta proprio di una solidarietà relazionale una solidarietà sociale e di costruire delle relazioni di offrire un periodo di relazioni di cura reciproca che nascono spontaneamente all'interno degli spazi che offriamo ogni ospita ha il proprio alloggio ci sono degli spazi comuni che richiedono poi una partecipazione a dei momenti comuni che quindi mettono in gioco ovviamente gli ospiti ma che offrono anche la possibilità di costruire delle relazioni un po' più profonde, approfondite la comunità giova di un grandissimo giardino e di un grande spazio verde che ci obbliga e obbliga gli ospiti e tutti i volontari e i residenti ovviamente a mettersi in gioco anche sul fronte di cura degli spazi e di lavoro e quindi l'orto e il giardino mettono in campo permettono a tutti di mettersi in campo in qualche modo e di mettersi in gioco questo ci è possibile davvero da oltre 40 anni per l'affittissima rete di volontari che abbiamo che orbitano intorno alla comunità chi per fare la spesa chi per offrire un passaggio in macchina a qualche ospite che ha qualche visita chi per aiutare in qualche lavoro burocratico però ognuno con le proprie possibilità si mette a disposizione mi piace ancora scusami Elisa ma mi piace anche sottolineare ancora una volta quanto la casa ci sono diverse declinazioni anche sul sito rispetto a cosa è casa, cosa non è casa mi piace molto sottolineare ancora una volta l'elemento della transitorietà anche di questo luogo perché spesso si parla di filo d'erba come un luogo anche semplicemente di sosta temporanea è anche un luogo di passaggio è anche un crocevia e noi lo sappiamo perché abbiamo incontrato quest'anno ma anche l'anno scorso persone che vengono anche da luoghi funestati dalla guerra per cui ci sono dei rifugiati è un luogo in cui succedono cose si costruiscono relazioni ma è anche semplicemente e questo non mi sembra assolutamente di poco conto un luogo di pausa, di sosta dalle fatiche no? Sì, di sosta e veramente ci tengo a sottolineare di sistemazione dignitosa nel senso che è proprio un po' alla base di quel che cerchiamo di offrire il fatto di poter offrire una casa con tutti i crismi di una casa a ciascun ospite la possibilità di avere un proprio alloggio con la propria indipendenza perché chi arriva da momenti o chi vive dei momenti di fragilità economica o non solo o chi è appunto molti rifugiati necessitano di essere anche accompagnati al riscoprire la bellezza di una vita quotidiana che passa anche dalla cura e dal potersi vivere un luogo che è casa questo è molto significativo per noi una casa comincia dal tetto per noi è significativo perché questa dignità ovviamente nel momento in cui piove dentro si perde e si perde anche la possibilità di offrire un luogo un riparo fisico che però sappiamo essere non solo fisico ma anche metaforico per chi ha bisogno di questi momenti di passaggio per questi periodi l'obiettivo della nostra comunità tutte le volte per tutti i percorsi delle persone che vengono ospitate è sempre uno ed è quello di salutarci cioè riuscirci a salutare nel più breve tempo possibile perché vuol dire aver ritrovato una propria serenità aver ritrovato un lavoro avere le possibilità economiche di trovarsi un nuovo luogo e quindi l'obiettivo è sempre ci diciamo con chiunque arriva l'obiettivo è salutarci ma non perché non ci stiamo simpatici ma perché l'obiettivo è traghettare accompagnare essere presenti fisicamente in un momento delicato ecco l'obiettivo è salutarci questa casa ha bisogno di un tetto e come diceva Elisa è possibile visitare il sito produzione dal basso punto com che è la piattaforma di riferimento per la raccolta fondi così come tutte le indicazioni ci sono anche sul sito ilfiloderba.it è un luogo dove salutarsi anche prossimamente perché tu mi hai condiviso anche una sorta di calendario di prossime iniziative che sono perfettamente dentro come dire lo spirito anche di comunità del filo d'erba perché ci sono incontri per le mamme in attesa c'è una polentata interessantissima dentro uno spazio bellissimo chi ha frequentato sere d'estate sa benissimo che quel luogo lì il luogo di sere d'estate il vivaio è un luogo di grande accoglienza e dove la natura la fa da padrona ci racconti in poche battute di questo mini calendario di attività che avete messo in piedi e che riguardano tutti non sono per personale specializzato di alcun tipo insomma no è proprio l'obiettivo è che questa casa sia una grande casa no? e quindi che tutti possano trovare uno spazio e anche le proposte di quest'autunno sono variegatissime abbiamo dalle presentazioni di libri a concerti abbiamo la festa importantissima del prossimo weekend la nostra festa annuale che è il 4, 5, 6 ottobre che racchiude in tre giorni tutte le nostre i nostri animi quindi venerdì sera un momento cultural letterario sulle mondine su queste figure femminili sabato una giornata di lavori e domenica una grande polentata con anche così un divertimento musicale di banda cauda e Enrico Cantamale e quindi abbiamo una domenica di festa è anche questo un modo per sostenerci venirci a conoscere e venire a conoscere quali sono le nostre così possibilità di partecipazione io lo ripeto sempre credo che una delle particolarità e delle caratteristiche più belle della nostra realtà sia che trovano posto persone che vengono tutti i giorni e persone che vengono una volta all'anno o che vengono orbitano solo ad un evento quindi si trovano comunque a loro agio abbiamo poi percorsi per la genitorialità per educatori genitori insegnanti zii chiunque si voglia confrontare sull'educare oggi che è un po' un percorsino che abbiamo costruito ciascuno cresce solo se sognato in memoria dei cent'anni dalla nascita di Danilo Dolci abbiamo poi appunto presentazioni libri cene di ogni natura ci piace mangiare il cibo è veicolo per noi di relazione quindi insomma allora l'avrete capito ancora una volta insomma è sempre un piacere incrociare Lisa Resu per farsi raccontare le cose che realizza quotidianamente il filoderma ma ribadisco ancora una volta che è possibile sostenere insomma la raccolta di fondi per la riparazione del tetto all'interno sulla casa diciamo che il tetto della casa della casa nord della comunità leggo nello specifico su produzionidalbasso.com e il filoderba.it per tutte le indicazioni allora Lisa intanto grazie per averci concesso il tuo tempo per averci raccontato ancora una volta insomma lo stato delle cose del filoderma insomma dove ci sono tante cose da fare e tante cose belle anche da ispirare insieme noi appunto a proposito di saluti siamo ai saluti ti ringrazio spero sia stato un buon tempo anche per te grazie ancora per essere stato qui con noi grazie mille a voi grazie mille vi aspettiamo